Torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietra dei Fusi, Avellino, 0825 19 31 778. Ancora paura in Alta Erpina, ancora un attacco in piena regola ad un banco mat a Calitri. Una banda di balordi si ipotizza tra le due e le tre della scorsa notte ha fatto esplodere il banco mat del Banco di Napoli in una strada centralissima di Calitri dove solo fino a pochi minuti prima era ancora aperto un bar. La deflagrazione ha sventrato solo lo sportello esterno ed i ladri sono riusciti a raccogliere soltanto 8.000 euro. Non contenti però, convinti che la maggior parte del denaro era rimasta nel contenitore interno del banco mat, hanno tentato di sfondare la vetrata dell'istituto di credito utilizzando come ariete una vecchia Fiat Panda rubata. Poco prima il Gran Boato però ha svegliato molte persone del posto che hanno prontamente alertato i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che essendo già nella zona sono prontamente arrivati sul posto mettendo in fuga i malviventi che non hanno fatto in tempo neanche a raccogliere tutte quelle banconote che erano sparse per strada a seguito dello scoppio. Ora sono in corso le indagini e dei rilievi tecnici da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Avellino nonché della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che tra l'altro stanno vagliando attentamente anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza esterne alla banca. Un colpo quindi quello di Calitri fortunatamente non riuscito nei dettagli ai malviventi ma resta il fatto che solo negli ultimi mesi tra Baronia ed Alta Erpigna quello del Banco di Napoli di Calitri è il terzo Bancomat che è stato fatto esplodere. Forse è arrivato il momento di attenzionare in modo più deciso quel territorio perché dopo i tanti furti nelle singole abitazioni questi sono atti di vera e propria delinquenza organizzata che vanno combattuti senza se e senza ma altrimenti nonostante il forte e deciso impegno delle forze dell'ordine quella che un giorno era per tutti un'isola felice diventerà sempre più la terra di nessuno.